Vicenza, immigrati violenti, nel giro di 24 ore 2 le risse in città, in quelli che sono ormai da tempo i luoghi caldi, Campo Marzo ed ex Sartori. La prima, a dare l'allarme, una ventenne vicentina che ieri in Campo Marzo, area, parco, giochi, ha notato un gruppo di africani che urlavano e si spintonavano. Un'escalation che ha visto uno di loro estrarre un coltello e brandirlo contro i suoi connazionali. Arrivati alle volanti, il gruppetto si è dileguato, ma grazie alla descrizione data dalla giovane è stato rinvenuto il coltello, gettato in un cestino e denunciato a un 24 anni nigeriano per porto d'armi e minacce. Nel pomeriggio, all'ex Sartori, risse invece tra cittadini dell'est e Europa, anche qui, crida e invettive, poi spunta un coltello, ferito alla spalla uno dei litiganti.